Siamo con Andrea Bracaletti, il termine di Feralpi Salomanto va 0-1. Dispiace aver perso questa partita, un primo tempo non positivo, però c'è stato comunque il tentativo di rispondere nella ripresa nonostante tutti i problemi fisici che hanno caratterizzato questa partita e quindi anche i cambi. Sì, abbiamo dovuto fare due cambi al primo tempo, naturalmente questa è la lunga, si è un po' fatto sentire, però penso che nonostante le difficoltà che sapevamo, la reazione ci sia stata, bisogna ripartire da lì, dalla voglia di recuperare il risultato che c'è stato fino all'ultimo minuto per poi andare avanti. Sapevamo che il campionato sarebbe stato durissimo. Rammarico di non aver sfruttato l'occasione per avanzare in classifica e magari recuperare qualche punto nei confronti delle dirette avversarie, la nota positiva è che le stesse dirette avversarie non hanno approfittato di questo turno. Sì, questi sono un po' i discorsi che si fanno a fine partita, naturalmente se avessimo vinto avremmo accorciato, ma fortunatamente nonostante non abbiamo fatto risultato non si sono troppo allontanati. Ecco, questo secondo me in questo momento dobbiamo un po' accantonarlo, dobbiamo un po' più pensare a noi, a quello che dobbiamo migliorare per trovare l'assetto giusto e iniziare a far punti. Adesso c'è il Forlì, una squadra per certi versi simile al Mantua perché viene da una prima parte di stagione negativa, adesso si sta rilanciando, c'è tanto entusiasmo, servirà tanta attenzione in questo senso. Sì, sarà difficilissimo perché loro sono una squadra informissima, oggi sono andati a vincere fuori casa, non dobbiamo assolutamente pensare che troveremo la squadra dell'andata, ma sarà tutto così il giorno di ritorno. Ma neanche noi siamo la squadra dell'andata, quindi dobbiamo mettercelo in testa e preoccuparci gli avversari, ma pensare a noi e far preoccupare gli avversari.